questa trasmissione collegandovi su Spreaker andando a cercare Talk Music Roma Futura e troverete tutte le puntate, anche questa e per chi si è collegato solo adesso nella diretta streaming sul mio profilo Facebook lo potrà ritrovare ovviamente io lo ricondividerò per la vostra gioia anche più tardi e domani io vi ringrazio per avermi seguito se ne è stati veramente molto 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 affettuosi un saluto generico e caloroso di nuovo a tutti quelli che mi hanno anche scritto hanno commentato io ho cercato di rispondere e niente buonanotte a tutti sono le 23.05 Radio Gaga qui ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.